Queste tecnologie vengono ampiamente utilizzate anche in ambito scolastico dai classici sistemi di traduzione automatica come il traduttore di Google ai nuovi sistemi di dialogo come ad esempio ChagPT che hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci sia nel generare testo in svariate lingue sia nel tradurre da una lingua all'altra. Tuttavia affinché tali sistemi possano effettivamente rappresentare un'opportunità nel mondo dell'istruzione è necessario conoscerli e saperli gestire, nell'idea appunto che solo avendo un ruolo attivo nei confronti di questa tecnologia quindi sapere se, quando e come usarla renda poi effettivamente possibile sfruttarne le potenzialità per l'apprendimento di una lingua straniera. Grazie. 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 Grazie.